I conti nelle ultime gare li fanno più o meno tutti, quelli che hanno ancora un obiettivo da stabilire ovviamente. I 180 minuti che separano il campionato di eccellenza dai play-off regionali per la Bucinese dicono di una squadra che dopo aver rispedito al mittente le prime accuse di essere stanca con la manita o cinquina, se preferite parlare in italiano, al foiano, adesso è forse all'ultimo ostacolo prima di prendersi comunque almeno la seconda piazza. Non ci sono particolari strasci che a livello di squalifiche per l'ultima trasferta assigna, anche se l'avversario ha da un lato ancora ambizione di salvezza diretta e dall'altro può pensare di conservare una migliore posizione per la disputa dei play-off eventuali, quindi non può permettersi di concedere niente. Visto però che l'ultima gara è contro l'ex Coccolini in casa arancio verde, l'evoluzione di questi 90 minuti può spostare l'assetto della classifica fino a garantire o quasi il secondo posto previo successo domenica. Appunto, delle prime tre, proprio per questo motivo la Bucinese è quella che potrà permettersi di seguire meno il risultato degli avversari, visto che poi la disputa di Rignanese-Montevarchi nell'ultima uscita sballerà ogni opzione. E semplicemente Bernacchia ha e deve avere i mezzi per replicare il successo sul signa dell'andata.